buongiorno ad abitivo news oggi 4 agosto e san giovanni maria vennei oggi anche la giornata mondiale della birra che si celebra ogni primo venerdì di agosto la giornata internazionale della birra un evento annuale che celebra l'amore per questa bevanda alcolica amata in tutto il mondo istituito nel 2007 da un birraio californiano per celebrare l'artigianato della birra e la sua influenza sulla società l'idea si diffuse rapidamente in tutto il mondo la birra una storia antica e ricca che risale a migliaia di anni fa e ha avuto un impatto significativo sulla società e sulla cultura di molti paesi questa giornata affranca un'opportunità per educare il pubblico sulla birra incluso il processo di produzione gli ingredienti utilizzati e gli stili di birra disponibili inoltre promuove il consumo responsabile e la consapevolezza dei rischi legati all'abuso di di alcool